La democrazia è un'esperienza, è un momento ricco nel quale abbiamo la possibilità di incrociare storie diverse. Queste storie diverse devono far parte di un taglio che poi ci portiamo a casa e che sui nostri territori ci permette di poter realizzare dei percorsi che sappiano allargare anche ad altre persone l'esperienza che abbiamo vissuto. Vi assicuro che Biennale è un'esperienza che fa cambiare e sono sicura che ognuno di voi ha qualcosa da condividere. Democrazia solo per noi, per tutto quanto che c'è fuori oltre al Mediterraneo non esiste. Ma noi non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo a stare qua e a me fa impressione. Vengo da un paese dove non c'è purtroppo democrazia. Io non ho mai avuto un'esperienza come questa. Ti dà libertà, felicità, amicizia. Il fatto proprio di rendersi conto che alcune cose ancora non funzionano è proprio quello che ci dovrebbe far rendere conto del fatto che allora le dobbiamo fare noi, in un qualche modo. Abbiamo provato dei problemi con consapevolezza, ma abbiamo visto anche grandi esempi di persone che hanno osato immaginare, hanno osato fare di più. Hanno guardato al loro futuro non tanto come a una minaccia, ma a un futuro come una promessa. Grazie per la visione!